martedì 5 dicembre un grande evento alla nostra nella nostra diocesi organizzato dall'unitalsi virginia a te il piacere di fare l'annuncio dunque abbiamo avuto così un dono da lourdes il vescovo ci ha mandato ha mandato la statua che quella che portiamo normalmente in processione durante il flambeau a lourdes ha iniziato un viaggio questa statua e che si chiama peregrinazio marie e girerà per tutta l'italia l'avremo qui da noi giusto appunto il 5 alle 10 del mattino arriverà a farà seguirà una messa ci sarà assolutamente una forma di preghiera continua fino alle 17 30 dove inizierà un rosario che verrà trasmesso fra l'altro se non sbaglio proprio in diretta seguito dalla messa presieduta dal nostro vescovo monsignor palletti e seguita da un flambeau tanto per ricordare proprio lourdes essere come fossimo veramente la presenti questo se sarà bel tempo lo faremo fuori se non sarà bel tempo all'interno della cattedrale una nota importante è che il piazzale sarà aperto e disponibile per tutti coloro che vorranno partecipare che spero siano in tanti è un'occasione unica di venire a trovare maria che ci accoglie tutti senza differenze e con tanto amore fabrizio momento importante impegnativo anche per i volontari dell'unità al si per organizzare questa giornata darete tutta l'assistenza possibile agli ammalati a chi vorrà essere presente e dopo la giornata e diciamo così in cattedrale ci sarà un altro momento altrettanto significativo in una zona leggermente periferica ma comunque importante che cosa succederà sì il programma che abbiamo fatto l'abbiamo l'abbiamo fatto assieme al nostro vescovo palletti quindi terminate le funzioni qui alla spezia la statua ci trasferirà in val di vara a beverino dove quella sera lì faremo una grande passeggiata di flambò dalla chiesa della madonna di sana alla chiesa di san cipriano successivamente ci sarà la santa messa e poi l'adorazione per tutta la notte una preghiera silenziosa sin dal mattino al mattino alle 7 30 ci saranno le novi e successivamente la santa messa che terminerà la presenza della statua in liguria che sarà poi concessa alla regione toscana non perdiamo questo appuntamento non è mai successo speriamo che risucceda ma è un'occasione davvero straordinaria martedì 5 dicembre dalle ore 10 presso la nostra chiesa cattedrale la peregrinazio maria con la presenza appunto della statua della vergine di l'urda